Siamo a Monaco, il congresso della European Society for Medical Oncology, dove ha appena terminato il Women for Oncology Forum. Di cosa si tratta? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Marina Garassino, che è una delle coordinatrici di questa iniziativa. Il forum, in realtà la task force è nata su consiglio di Martin Piccard quando era presidente dell'ESMO, perché si era resa conto appunto delle disparità che c'erano tra donne come rappresentanza ai congressi, come ruoli di leadership e aveva creato apposto una task force dedicata ad aiutare le carriere delle donne. Questa task force poi si è declinata in alcune spin-off nazionali, tra cui anche la nostra, che hanno proprio come missione quella di aiutare le carriere delle donne. Ecco, di recente su ESMO Open sono stati pubblicati i risultati di una survey che ha voluto proprio fare, diciamo, scattare una fotografia della situazione delle donne in oncologia. Ci dà qualche numero? Allora, che la situazione era drammatica? Lo intuivamo. ESMO Open ha pubblicato due articoli e chiarificano in modo molto preciso il fatto che le donne sono ultra sotto rappresentate, sia nelle posizioni di leadership, quindi come direzione di reparti, sia come speaker ai congressi nazionali e internazionali. Sono sotto rappresentate nelle commissioni, sono sotto rappresentate dappertutto. In più emerge anche il problema del fatto che le donne vengono anche costantemente accusate di cose sessuali. Per cui esistono degli stereotipi, per cui comunque la donna che fa carriera è associata a un tipo di donna che magari assolutamente chiaramente non è. E ESMO quindi fa anche il punto sul fatto che sono necessari assolutamente dei programmi di sviluppo di carriere delle donne molto precisi, perché attualmente la situazione effettivamente si parla di 1 a 10, 2 a 10 nelle nazioni migliori. Ed è un fenomeno non soltanto italiano, ma è un fenomeno europeo. Ecco, in parte lei ce le ha già anticipate, però quali sono le principali sfide che oggi deve affrontare un oncologa, la sua attività clinica e anche per affermarsi nella professione? Allora, le sfide sono tante. Sicuramente in Italia abbiamo lo stereotipo della donna che deve fare la madre, la casalinga, la moglie, la spesa e tutto e questo sicuramente influenza sul fatto che già in qualche modo la donna si autoblocca. Però è sicuro che le donne hanno tutta una serie di problemi, in un'ultima la dichiarazione che è stata fatta ieri dal rettore della Normale di Pisa che dice che quando si propone una donna in una posizione di leadership succede il finimondo. Quindi sicuramente esistono degli stereotipi culturali, ma sicuramente anche gli uomini non promuovono le donne e probabilmente anche le donne non promuovono sufficientemente le donne. Quindi è un'inversione di tendenza che va costruita, va creata sia a livello culturale, sia a livello di stereotipi, anche sicuramente a livello politico. Ecco lei ci ha appena detto che in Italia e anche in altri paesi europei in realtà solo una donna su dieci occupa delle posizioni di leadership in oncologia come primario oppure come docente universitario. Ecco anche per superare queste disuguaglianze lei nel 2016 è stata tra le fondatrici e oggi è a capo di Women for Oncology Italy. Qual è la vostra mission? Allora noi ci siamo sedute a un tavolo con tutte donne che a mio modo di vedere rappresentano a livello scientifico un valore che sono note a livello internazionale ma che non hanno a parte una una posizione di leadership o di direttore di struttura. Ci siamo domandate che cosa volevamo, se era fare nuovi congressi per apparire noi oppure fare dei programmi educazionali. Per noi abbiamo scelto la seconda ipotesi per cui abbiamo iniziato a fare dei programmi di aumento della leadership, alcuni sono stati fatti con anche università prestigiose come la Bocconi, altri programmi invece proprio per imparare degli skill comunicazionali con giornalisti, con la capacità di poter stare davanti a una macchina da presa, la possibilità di poter fare public speaking in un determinato modo ma anche cose un po' più curiosi tipo imparare a stare sui social network informando e come possibilità di comunicazione anche sia ai pazienti che ai colleghi. Diciamo che il punto sostanziale abbiamo cercato di coinvolgere proprio come mission persone che avessero più o meno il nostro livello di carriera quindi quelle persone a cui manca l'ultimo pezzo per diventare probabilmente primari e abbiamo investito tutto nel creare proprio programmi specifici per queste persone. L'effetto finale è che abbiamo creato un gruppo di persone a livello italiano molto unite tra di loro che condividono esperienze sia a livello emotivo sia a livello scientifico sia a livello di come gestiamo le situazioni del nostro reparto di mutuo aiuto che sicuramente favorirà nel tempo qualcosa a livello italiano. Ecco il titolo del forum di quest'anno era sharing the power quindi condividere il potere condividere le responsabilità ci pare di capire che sono stati fatti dei passi avanti ma la strada è ancora lunga che cosa resta da fare per colmare davvero le disuguaglianze di genere? Allora resta da fare moltissimo oggi al forum sono state soltanto presentate tre esperienze nazionali che erano quella greca quella tedesca e la nostra e rendevano chiaramente l'idea che ognuna delle tre esperienze aveva fatto dei percorsi completamente diversi questo semplicemente a dire che la strada da fare è tanta vanno completate sicuramente delle mancanze culturali che in modo diverso affliggono ogni nazione e vanno possono essere creati proprio dei programmi di mentorship dei programmi di sponsorship si è parlato di creare una sorta di speed dating con delle poter possibili mentor e che facciano i mento a persone che vogliono crescere e che poi possano essere aiutati nei loro percorsi di carriera e abbiamo precisato che questo possa essere fatto dall'inizio dall'università perché probabilmente per modificare gli stereotipi già alla mia età è troppo tardi